Si riapre il confronto tra i tecnici del MIUR e i sindacati per quello che riguarda i concorsi straordinari e i PASS. Finalmente si sembra che si è arrivati ad un accordo tra sindacati e MIUR. Ieri abbiamo incontrato tecnici del MIUR che ci hanno spiegato che verrà attivato ben presto un disegno di legge che preveda la possibilità per i docenti precari che abbiano svolto tre annualità negli ultimi otto anni concorso straordinario. Una prova che vedrà i docenti impegnati a svolgere un colloquio orale e una prova di informatica di base. Da queste prove con gli anni di esperienza di servizio si stilerà una gradatoria regionale e da questa gradatoria gli abilitati, perché tutti coloro che supereranno l'esame verranno abilitati, potranno anche aspirare al ruolo. Per cui il ruolo dovrebbe, il condizionale d'obbligo fin tanto che non ci sarà tutto l'iter ovviamente legislativo, si dovrebbe attingere per i ruoli anche da questa gradatoria regionale. Il 25% sarà riservata ai concorsi ordinari, un altro 25% a queste gradatorie regionali per il concorso appunto straordinario e il 50% dalle GAE. Oltre il percorso straordinario del concorso straordinario, una tantum si intende, per coloro che appunto hanno questi tre anni, negli ultimi otto, di cui almeno uno passato nel classe di concorso in cui si intende fare il concorso, ci saranno anche i cosiddetti pass, sono percorsi diciamo speciali abilitanti. Tali percorsi saranno, daranno la possibilità intanto di abilitarsi ai docenti che ne faranno richiesta che hanno anche loro tre anni di servizio svolti negli ultimi otto, ma potranno con questa abilitazione inserirsi nel gradatorio di seconda fascia per le supplenze. Comunque il quadro si sta, diciamo così, componendo, c'è probabilmente già oggi ci potrebbe essere la fumata bianca, faremo altri video riguardo questa particolare situazione. Seguiteci nel sito www.techinlascuola e nel canale YouTube e nei social sia Facebook sia Instagram dove vi terremo informati sul procedimento legislativo, questo che sembra essere ormai un disegno di legge, che il governo si appresterà a fare dopo l'accordo con i sindacati.